Buongiorno carissimi, bentrovati in questo lunedì della ventesima settimana del Tempo Ordinario. Su e giù. La chiuderei così la liturgia della parola che oggi ci viene donata. Il Vangelo è tratto da Matteo, siamo al capitolo diciannovesimo, in versetti 16-22. C'è un incontro che Gesù fa con un tale che gli chiede la felicità eterna. E Gesù gli dice, guarda che solo uno è buono, quindi la prima via per la felicità è quella di incontrare qualcuno con la Q maiuscola, incontrare il Signore, il volto del Signore. Poi questo si esplicita anche nella seconda via che può essere quella dell'osservare i comandamenti. Ma questo tale ecco punta in alto, va su. Siate perfetti come perfetto il Padre vostro che ne cedi, aveva detto Gesù nel discorso della montagna. Quindi questo tale osa, quindi spinge di più l'acceleratore, potremmo dire. E pertanto Gesù gli dice che una cosa sola gli manca, di vendere tutti i suoi vendere ai poveri, può seguirlo. E questo uomo purtroppo non lo fa, quindi fa un'esperienza poi di sgasamento, potremmo dire. Nel brano invece della prima lettura tratta da Ezechiele, siamo al capitolo 24, versetti 15-24. A Ezechiele verrà a mancare la moglie, quindi ci sarà questa profezia da parte del Signore. C'è un'esperienza di abbassamento, di giù. Stanno giù anche nel morale, perché anche Israele vivrà quella che poi sarà la deportazione in Babilonia, la distruzione di Gerusalemme, anche la perdita delle persone care. E viene detto di non fare un lutto esteriore, di non far vedere, ma di entrare proprio giù nell'ultimità della propria anima e comprendere anche l'errore che si è compiuto. Ma è bello perché sia nell'esperienza in su, che vediamo nel Vangelo, sia nell'esperienza in giù, che vediamo nella lettura di Ezechiele, possiamo constatare che Dio è sempre pronto all'incontro in qualsiasi punto del nostro cammino. Questa è la bellezza del messaggio che oggi ci arriva per il nostro cammino di discepoli e desiderosi della vita eterna, della felicità eterna. Desiderio che appenaglia il cuore di ciascun uomo, di qualsiasi latitudine e longitudine di questa terra. Bene, auguro a voi così di vivere una santa giornata, perché sia stando in su o andando in giù e possiamo incontrare Dio che si fa presente nel nostro cammino. Buona e santa giornata a ciascuno di voi.